In questione molto semplice, gli indagati da noi non si candidano, punto e basta. Questa nuova regola non potrebbe poi inficiare alcune candidabilità anche vostre, per esempio, come ha detto la Sarti, lei che pensa al pensiero della Sarti? Nel Movimento 5 Stelle nessuno è indispensabile. Le dimissioni, noi chiediamo sempre le dimissioni di persone che sono sotto indagine e rivestino cariche pubbliche. Questa non è una novità, vale per tutti e varrà nel momento in cui anche Giulia Sarti o, che ne so, chiunque altro, io, siamo indagati e ci dobbiamo candidare. Non possiamo essere candidati.